Quando dico premio sal dirà Maria Occhi di Braggio, veramente nonna... Michela si è alzata... Fate un grande applauso ad Andrea Batilla! Ma voi siete tipo poliziotto buono, poliziotto cattivo? Sì, bella, Vienna, però con un po' la Sager, Gupalle... Lo sguardo! È il rumore della folla, can you hear the crowd? Smettina mica! Della salsiccia dell'unigiana, no? No. Ma quella è la Luganica, scusa. Sono molto stimata nel mio programma che io ho inventato. Posso dire chi se ne frega? Dritta? Se no... Cioè, no, ma... Proprio... Se non mi fa male all'addome, non so se ce la faccio. Ma oggi non è ancora... Scusa, ma non hai mangiato oggi? C'ho fame. Madonna. Una fame pazzesca. Vabbè, dai, cominciamo. Però poi succede come quella volta dei rigatoni che sto male e mi metto a ispirare. Aspetta, fammi fare una prova. Dai. Scusa, io mi sposto il setto per prendere l'ossigeno, ma non funziona mai. Posso dire? Grazie, l'ultima puntata siamo tutti felice. Così smettiamo. Tre, due, uno. Vai. Signore e signori. Ladies and gentlemen. Madame et messieurs. Damen und Herren. Ed eccoci qui per l'ultima, ma sempre straordinaria puntata di... Gioconde! Il podcast sulla storia dell'arte di cui non sapevate di avere bisogno. Ma che noi abbiamo voluto fare lo stesso. E adesso... Per l'ultima volta... Sigla! È arrivato Gioconde. Il podcast sull'arte. E senza richiesto. Ma noi lo facciamo lo stesso. Oh, yeah! E rieccoci rientrati dalla sigla. Questa sigla di archi, di fiati, di lire. Veramente lire non i soldi, ma sai quelle... Insomma, ringraziamo Personab, Maria Rinaldi, il nostro sponsor. E sì anche per questa stagione siamo tristemente arrivate all'ultima puntata Oh Gesù quanto ci dispiace Guarda ti dico a me dispiace per il programma non per doverti sostenere e sopportare quando mangi i ricadoni Maria ti dico quello che dico a tutti i miei ex Tu mi rimpiangerai Ma cosa? Tu verserai lacrime amare pensando a me Perché con tutti i difetti che ho quando una persona mi conosce non può che rimanere ammaliato E salutiamo tutti Trattata così male Persone che hanno scelto di non frequentarmi più ma Chiudiamo col botto dicevamo con un recambolesco salto temporale che tanto ci appartiene E passiamo ad atmosfere di guerra, morte e rivoluzione che abbiamo visto nella ultima puntata con Goia Arriviamo alla spensieratezza e alla bellezza dell'Art Nouveau e del periodo della Belle Epoque Cosa stai facendo? Belle Epoque? No E questa? No Vabbè Se non lo è a questo punto io vado avanti Maria Notaio d'Italia Vado avanti con il gioco che costringe questo paese a fermarsi Di che opera parliamo oggi Faccio entrare il nostro valletto Antonio Losito che ricordiamo autore, sceneggiatore, vince premi Qui non conta nulla perché il patriarcato è sconfitto E un applauso per l'ultima volta al nostro Antonio Losito E poi in maniera molto goffa una vestaglia rosa Aspetta Ecco Di materiale simil seta E ora senti che ti dico Cameriere champagne Hai bevuto? Magari Sei impazzita? Non sapevo pubblicizzassimo dello champagne adesso Chi sono? Una cretina con in mano una bottiglia di champagne No, la risposta è musa, dea, ispirazione inarrivabile Va bene, allora forse ora che mi ci fai pensare con questo gioco veramente divertente Rimani così brava ancora un po' Michela ferma in una posa plastica Ma parliamo forse della pubblicità del Moet Chandon di Alphonse Mucca? Parliamo forse? Sì Maria ma come fai a indovinare ogni volta? Guarda, sei sempre più incredibile Sempre più incredibile, grazie che me lo dici Il politico artista di cui parliamo oggi Questo penso ora vale 15.000 euro Lancia questa corona in maniera molto goffa Non è andato molto lontano Davanti al tavolo L'artista di cui parliamo oggi, un artista poliedrico Era infatti pittore, scultore, illustratore, grafico, designer di mobili, di vestiti e di gioielli E uno tra i primi pubblicitari della storia contemporanea Stiamo quindi parlando di... Me! No Parliamo di Alphonse Mucca Un artista del quale sono certa che quasi tutti voi almeno una volta hanno visto un'opera Probabilmente senza sapere che si trattasse di lui È perché lui è una di quelle classiche cose che tu guardi e dici Ti ha quello Tipo sei la pubblicità della banca che tu senti Invece il tipo di coso... Invece lo ricordo solo tutto intorno a te Grazie Michela per aver citato questa perla di saggezza Il periodo che andiamo a indagare è quello della Belle Epoque Tra la fine della guerra franco-prussiana nel 1895 e la prima guerra mondiale Michela, per l'ultima volta, grazie a Dio, la sigla del contesto storico Contesto storico, contesto storico Ricco tra la Belle Epoque e la fine della guerra franco-prussiana e la prima guerra mondiale Contesto storico, yeah! Vai Allora Vai, brava La Belle Epoque è un periodo caratterizzato da pace e prosperità Oh, finalmente una stagione d'angoscia De peste Finalmente un po' di ottimismo È un grande senso di ottimismo Grazie all'avvento delle innovazioni tecnologiche La crescita demografica L'assenza della ZTL Si pensava che un tempo di pace come questo non potesse finire mai Tra le innovazioni... Finisce, l'ho detto prima Tra le innovazioni tecnologiche anche l'illuminazione urbana Che a breve si diffonderà in tutto il mondo Tranne che in alcune vie a Roma Pensate che ancora oggi desiderano fieramente di vivere in un'età preindustriale E questa Maria è satira Satirona che io posso fare e tu no Perché io sono premio satira e tu no Ce la farai a superare questa cosa prima o poi? Io sono solo che felice per te che sei premio satira Non mi è mai interessata Oh regà, quando dico premio satira, Maria occhi di braggio Veramente non... Ma è mai vero? Lo dico agli ascoltatori soltanto audio Io non faccio nessun occhio di braggio ogni volta che Michela... Questa roba di devasto No, mia sopra è satira Del quale sono veramente orgogliosa Continuo a non crederci Vabbè, comunque in quest'epoca nasce anche il cabaret Allora Michela si è alzata e sta facendo un balletto in maniera veramente poco aggraziata Di cui il più grande esponente è Michela Girò Io sono esaurita Questo è il rumore della folla Can you hear the crowd? No? Sì, sì, sento la crowd che non esiste Non l'ha affatto nessuno perché ci stesse solo ascoltando Nello stesso periodo, pensa Maria, nello stesso periodo nasce una grande cosa di cui io faccio parte e tu no Il cinema Andiamo avanti Ma ne non rispondo neanche E le correnti artistiche come l'art nouveau o noto in Italia come lo stile Liberty Il cuore pulsante della belle époque Come possiamo dedurre dal nome è A Parigi A Parigi è ambientata buona parte della vita del nostro pittore Tra cinema, teatri, caffè all'aperto, la nascita dell'illuminazione pubblica notturna Riesce a popolare le strade della capitale francese anche di notte Dando vita a un nuovo tipo di intrattenimento di spensieratezza e di frivolezza Le colonne erano dei luoghi esotici da quali importare nuovi stili, diverse stoffe, mode, cibi e bevande La moda stessa diventava parte integrante del vivere cittadino Nel 1800 nascono cose incredibili come lampadine, radio come abbiamo detto, cinema, aeroplani Ma anche degli oggetti diabolici come il frigorifero Sì, infatti il primo prototipo è di metà dell'Ottocento Il clima festoso della belle époque comunque dura poco Ma ad aiutarmi a portare avanti questa faticosissima ultima puntata Oh, c'è un grande ospite, devo dire che questa persona ha fatto di tutto per essere qua Pensate, lui era a New York, stava pranzando con Donatella Versace E a un certo punto ha detto Donatella, I'm sorry, I have to go E non è mai vero, è verissima questa cosa Nessun ospite ha fatto questo per noi Sì, lui l'ha fatto Fate un grande applauso ad Andrea Batilla Ciao Ciao Andrea Ciao Andrea, grazie per essere venuto da New York indirettissima Comunque ero a New York Beccati questa Maria Però volevo dirti che non ero a pranzo con Donatella Versace Ma con? Michael Stipe Ci picchia Finalmente è arrivato qualcuno alla mia altezza di megalomania Con la differenza che quello che lui dice è vero E io Allora Andrea, grazie per essere qui Grazie a voi Per averci voluto onorare con la tua presenza Intanto ti volevamo chiedere Parlaci un po' di te Ah Sì, così Non eri preparato No No, parlo io di te Perché ho voluto? Perché io vedo sempre E io ti seguo su Instagram Ah sì? E dato che comunque, sì Questa è l'epoca dove la cattiveria viene scambiata per spessore E io non sono d'accordo Invece si fa sempre più fatica a distinguere quella che è una penna affilata Che è diverso dal cattivo in quanto tale E invece tu ogni volta che commenti qualcosa Non è che lo fai perché sei cattivo Tu dai le tue stoccate Ma sono sempre motivate C'è sempre una struttura Grazie E quindi questo è il motivo del perché sei qua Perché tu mi piaci tanto Vabbè, vediamoci più spesso Ecco Non lo so Così per se botte d'autostima Assolutamente Esatto Quindi ecco Tu sei tante cose Cederei la parola a te Però il motivo Io ti ho conosciuto così Perché c'erano dei pareri Anche scomodi sulla moda Sul costume Che tu sapevi Non è che tu dici Ah questa cosa mi fa schifo Come fai tu Michela Sì io lo faccio però Insomma Semplicemente uno sterile Tu comunque dai una struttura al tuo pensiero Quindi Lo fai Basta del motivo Perché ti seguo e mi piace tanto Grazie Un bellissimo complimento Allora Io Cantavo in chiesa Come tra l'altro lui Lui cantava in chiesa anche lui Ma hai capito Meraviglioso Quando ero piccolo Cominciato così Nello spettacolo E poi mi sono trasferito a Milano Questa è una gag Nello spettacolo Questa Cioè non facciamola passare Una grande gag Sai che Michela ha iniziato Il mondo della danza invece Eh Sì ma Ma la danza non mi ha voluto Ed ecco Ma neanche lo spettacolo La danza non era d'accordo Ma siamo andati avanti Benissimo Andrea Tra l'altro Ce l'abbiamo fatta lo stesso L'abbiamo fatta comunque Quindi Poi sono andato a Milano Prima parte ho fatto Lo stilista Proprio quello Tu sei toscano Io sono l'unigianese L'unigianese Noi non ci consideriamo toscani Non parliamo toscano Salutiamo i toscani e l'unigianesi No salutiamo i toscani Non li salutiamo Allora Allora noi devi dire che Noi siamo con un brand Che ci rappresenta Quindi noi salutiamo i toscani Tu se non vuoi Ma noi salutiamo tutti Perché ci sono delle clienti No salutiamo tutti anch'io Papabili in Toscana Che possono comprare Persone a Bamberinaldi Di cui sono molto Va bene Io saluto in modo particolare L'unigianesi E salutiamo anche loro Terra mia Della salsiccia Della lunigiana No 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 quella è la luganica Scusa Perdonaci Ti abbiamo tolto la parola 70 volte Niente Poi ho fatto Quindi Prima parte ho fatto lo stilista Quello proprio vero Sai che disegna le cose Scegli i tessuti E quelle robe lì Moda Il lusso Quello che si andava a ricercare Nella nostra bella epoca Poi dopo ho cominciato a insegnare Sono diventato direttore di una scuola Molto bello Poi dopo ho cominciato a fare consulenze Che sono quelle che faccio ancora E sono un brand strategist Sono una roba che fa molta paura Quindi sei adattissimo per questa puntata Di brand strategist Penso di sì Penso di essere la persona giusta Sei la persona giusta E allora andiamo avanti Raccontaci Michele un po' di Muka Allora Muka Nasce nel 1860 1860 a Ivanciece Nell'attuale Repubblica cieca In quell'anno l'artista lasciava la swinging Ivanciece per la grande città Vienna Muka a 19 anni Non vuole fare legge Quindi inizia il lavoro di pittore Di scenografie teatrali Sponsorizzato da un nobile Si iscrive all'Accademia di Belle Arti Monaco Nel 1885 Decisivo per la sua carriera Sarà il trasferimento a Parigi Nel 1887 Bella Vienna Però dopo un po' A Sager Dupalle Cioè vai a Parigi Dove ci sono delle parole pazzesche Come camouflage Tu sai che vuol dire camouflage? No Bene Se volete lo spiego però Sai le chiazze Quelle delle robe dei militari? Si Quello è un camouflage Eh si Il nostro Muka Dopo aver illustrato libri Riviste Creato scenografie teatrali Riuscirà a arrivare alla notorietà Grazie alla realizzazione Di un primo grande manifesto Per Sara Bernardo La divina Sara Appunto tra le più celebi attrici Di teatro della storia Non Michela Sara Bernardo Ovviamente Dipende dai punti di vista Stai zitta Da quel momento in poi La fama per aver disegnato Appunto il manifesto Per la Gismonda La prima della Gismonda La Bernardo Ma anche per aver disegnato Appunto come una Designer proprio di tutto Il concetto dell'artista I gioielli Gli abiti Le locandine Porta il nostro amico Muka A disposizioni universali E personali L'expo Che possiamo dire È una sorta di grande Salone del mobile Vabbè Comunque sì 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 Possiamo dirlo Ragazzi oggi Io sono veramente In minoranza Sono in minoranza Sono sola Sono sola Non so più che devo fare Prego Sono sola Non so più che devo fare Scrive anche manuali per l'artista E anche Muka insegna Parte per gli Stati Uniti Diciamo insegno Quello che oggi Noi chiamiamo designer pubblicitario Design pubblicitario Che è un concetto Abbastanza nuovo Dopo l'occupazione tedesca Della Cevoslovacchia A causa del suo spirito patriottico Viene interrogato Dalla Gestapo Ma è storia dell'arte? No non viene interrogato In storia dell'arte Ecco Questa cacate molto Vabbè Facciamo la cadere così E pochi anni dopo morirà Da tutta questa produzione Straordinaria di Muka Noi oggi ci concentreremo In particolare Sulla produzione decorativa E pubblicitaria Possiamo dire che Muka Era un po' il madman Del 1800 Cioè praticamente Si occupava di fare Gli Open to Meraviglia Però belli e pagati Meno di 9 milioni di euro Comunque Nelle opere di Muka Innumerevoli sono riferimenti Alle altre arti E agli altri stili Stili del passato E del presente Quindi come per Le affellite inglesi Le stampe giapponesi Nei contorni molto stilizzati E marcati I museici bizantini Negli sfondi E anche nelle figure In posizione hieratica Inedito È soprattutto il formato Come vengono realizzati Questi cartelloni pubblicitari Lo so In verticale Sei bravissima In formato verticale Non più orizzontale Dove la marca Da sponsorizzare È molto meno evidente Rispetto a quello Che viene raffigurato La marca o è sopra o è sotto E al centro C'è un'immagine raffigurata Quasi sempre Anzi no Sempre femminile E c'è soprattutto Tanta innovazione Nella comunicazione Nella raffigurazione Della donna Che tra la fine dell'ottocento Inizio del novecento Subisce finalmente Una prima radicale trasformazione Lo sai che anche grazie a me La donna Di fine anni dieci Subisce una radicale Trasformazione In che modo? Beh cosa? Motivalo In che modo? Vabbè Oltre ai manifesti teatrali Come abbiamo visto I più famosi Sono quelli per Sara Bernard Mucca si approccia A questa creazione Di immagini Forme, colori E contorni Fororeali Per la pubblicità Di beni di lusso Beni di lusso Che come Le cartiere delle sigarette I biscotti La cioccolata E i prodotti per l'infanzia Anche E una delle più note Case di champagne Che appunto È il Moet Chandon Del pubblicizzare Lo champagne secco Quello che Michela Ci ha fatto vedere Che non era Ovviamente Un Moet Chandon Il Gran Cromant Imperial Mucca rappresenta Al centro Una donna molto elegante Che indossa Una veste chiara Ricca di motivi floreali Con un mantello Anch'esso Decoratissimo Sui toni del rosa Michela che stai facendo? Sto amiccando A chi? Al nostro pubblico E per quale Mi ora da Andrea Ti sembra Uno sguardo amiccante Andrea No descriviamolo Perché a me sembra Soltanto Allora io sono poco pratico Di sguardi amiccanti Dalle donne Però è amiccante Sì È amiccante Non trovi che sia un tic No Ne sei certo Smettila amica Smettila Per favore In mano La nostra donna Tiene una coppa di champagne Ornata dagli stessi motivi Degli abiti Lo sguardo Scusate Un piccolo problema Tecnico Lo sguardo Tra l'indifferente E l'amiccante Come quello Che sta tentando Di mimare Michela In maniera molto goffa Quale indifferente Amiccante Che orrore È rivolto All'osservatore Abbiamo finito? Sì Possiamo andare avanti Grazie Michela Per favore La figura è immobile Non come Michela Che si è mossa Come una sorta di tarantola In tutto questo tempo Ma muove leggermente La gamba sinistra In avanti Come se si sporgesse Verso l'irriguardante Come offrirgli appunto Questa coppa di champagne Ed è qui Che mi viene subito Una domanda Per te Andrea Quella che ho scritto io Non lo so Se vuoi sì Ma voi siete tipo Polizzotto buono Polizzotto cattivo Sì Andrea Una domanda molto spontanea Che ha scritto lei Leggo spesso La tua penna è affilatissima Ne è una per tutti Ma oggi no Perché l'erroa Se mua Modestamente Il tuo forte È la critica Della contemporaneità Alphonse Muga È uno dei primi esempi Di storia dell'arte Al servizio della pubblicità C'è un esempio di artista Pittore Illustratore Lo scultore che abbia fatto Quello che abbia fatto quello Che ha fatto Muga Ai nostri giorni È una domanda A cui non sono preparato A rispondere Ah puoi dire No E noi andiamo avanti No Allora Per farla un po' Leggermente più lunga Quello che è successo In quel periodo storico lì In cui l'arte E il commercio Hanno cominciato a unirsi Indissolubilmente Poi è andato avanti Ed è stato solo Come dire Un peggioramento No Quindi oggi Fare Non è che vai Nelle gallerie d'arte E vedi questi Che lavorano Per la gloria E poi vai nei negozi Non so Dei marchi del lusso E vedi Il mercato Il commercio No È sempre tutto Molto molto mescolato Sempre di più In una maniera Che secondo me È quasi Inintelligibile Capito Molto difficile Da distinguere Quindi lui Secondo me È stato un precursore Infatti Un po' bistrattato Anche per quello Perché è indefinibile Quindi una concezione Un po' Totale Esatto A 360 gradi Dove non riesci più A distinguere Cioè c'è molta autorialità Sicuramente lui era un genio Però c'è anche Tanta coscienza del mercato Di fare delle cose Che devono essere vendute E devono entrare in mercato Quindi Le critiche Poi sono molto facili Da fare Verso questi personaggi Perché dice No Dovresti startene a casa Fare la scultura Da solo Povero Nel sottoscale Eccetera Uno deve magnare Appunto Uno deve magnare E poi comunque Viviamo in questo mondo Dove il mercato È una parte fondamentale Quindi quella Quella divisione lì Secondo me non c'è più Non esiste più Direi per fortuna Sì Un'artista che si mette A servizio Proprio a 360 gradi Di un marchio Diciamo O di una Come per Sara Bernard Di una Idea totale Di quello che dovesse essere La rappresentazione Dell'artista Dai gioielli Ai vestiti Al poster Era una concezione Un po' più Proprio della belle epoca Sì ma poi Sara Bernard Era un marchio Lei è diventata famosa Perché era un marchio Perché È diventata famosa Perché era famosa Cioè Tra Sara Bernard E Kim Kardashian Non c'è tutta Sta differenza Attenzione Affermazioni forti Affermazioni molto forti Nel senso che Siamo proprio sicuri Che era così Aveva tutto sto talento Sì certo Ma anche Maria Callas Maria Callas È prima un brand No? E poi un artista Diventa famosa Perché qualcuno Gli costruisce Intorno a un brand Quindi Questa distinzione C'è veramente Sempre stata poco Anche io sono come Maria Callas Kim Kardashian Sara Bernard Torniamo a vedere Un momento Volevo fare un'altra domanda D'Andrea Collegandomi sulla Sulla figura appunto Della donna Sulla rappresentazione Perché appunto Viene rappresentata Questa figura femminile In particolare Appunto Parliamo di Moësha Andor Ma ce ne sono tantissime altre Viene sempre rappresentata In piedi Bellissima Completamente contornata Da fiori Come ci ha fatto goffamente Vedere Michela prima In questo caso Ha un'acconciatura Migliore di quella Che aveva lei Con queste foglie di vite Davanti Sembrava bacco Comunque richiamavano In questo caso Lo champagne Sono molto stimata Come vedi nel mio programma Che io ho inventato Vai Stai calma Che offre Questa coppa di champagne A riguardante Con quest'aria Tutta quanta frizzantina Siamo alla fine dell'ottocento E mi viene da pensare La figura della donna Sta cambiando Sia perché appunto Non è più L'angelo del focolare Sia perché Purtroppo cambierà Anche in conseguenza Le guerre Perché si titolerà Da sola A dover fare Mestieri Che erano da uomo Muca ce la fa vedere Come una donna Che invece Fa cose da uomo Tipo bere l'alcol O fumare le sigarette Eccetera Con una spontaneità Una frizzantezza straordinaria Fa cose dall'uomo Dell'uomo per l'epoca Sì Certo dell'ottocento Questo era un buon modo Per sponsorizzare un prodotto Cioè svecchiare La figura femminile Farla uscire dalla cucina E farla diventare Una donna moderna Ad oggi Cosa è successo? Cioè io penso Questo magari Non so se lo taglieremo Ma io penso Che ci sia stata Una grande involuzione Sì ma qui tagliamo Mezza puntata No 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 Questa è la domanda Che vedi che ci sono Certe pubblicità Con tesoro Ti ho aspettato a casa Tutto il giorno A farti le fettine panate Tu dici che è successo Dall'ottocento Con Muca Con quella che fuma e beve Cioè capito? Siamo tornati Indiato di 200 anni In un secondo No allora Intanto Quello che fa lui Con quell'immagine lì È una cosa molto bella Che si chiama Che è una parola Difficilissima Autoggettivizzazione Del femminile Che è stupendo Cioè Lì raccontare Un corpo nudo Alla fine dell'ottocento Praticamente Cioè facendolo vedere Il corpo femminile Era una roba rivoluzionaria Le donne si vestivano Ancora con i corsetti Le gonnellone Enormi Quelle che troviamo romantiche In via col vento Ma che di romantica Non c'avano niente Le clinoline Sì Sono quelle che ti stringono Te hai presente Andare in bagno Ma tu pensi Ho dei problemi I reni Io devo andare A bagno Ogni secondo Ecco Per me È una cosa tremenda Ma infatti Sai loro come facevano La facevano sotto la gonna Con dei pannoloni No no Apri le gambe E via Per forza Per forza Era impossibile Se no era impossibile Quindi c'era un livello Di costrizione Delle donne Della figura femminile Calcola che il femminismo Il proto femminismo Nasce proprio Alla fine dell'ottocento Questo è il periodo storico In cui le donne Sono più Hanno delle regole Più restrittive Cioè non possono uscire Di casa Patriarcato Come se non Ci fosse Un domani Che già oggi È grave Però praticamente L'hanno inventato lì Tu donna Stai a casa E io uomo vado a lavorare Io uomo faccio Quello che mi pare Ho 44 amanti Che mantengo Faccio figli in giro A cui non do nome Eccetera eccetera Tu donna Non puoi fare assolutamente Niente tutto questo Tutto questo Questo tipo di rappresentazione Quindi è Super rivoluzionaria Perché Fa vedere La donna In un modo Completamente diverso Molto più Realistico In realtà Perché fai vedere Il corpo Il corpo scoperto Il corpo libero E che fa Delle azioni Che appunto Come avete detto Voi prima Una donna In realtà Non avrebbe dovuto fare E tra l'altro C'è molto erotismo Dentro quelle immagini lì Ma è un erotismo Che oggi Si chiamerebbe Consapevole Perché lei sa Di essere Di stare In quel punto lì Di fare quella roba lì Che vuole ammaliare Vuole ammintare È molto consapevole Perché noi viviamo Molto con il senso Di colpa Soprattutto Come cultura italiana Cioè se ci fai caso Quando c'è una donna Che si emanciva Anche dal punto di vista Proprio dell'uso Del corpo Noi tendiamo sempre Soprattutto in Italia A giustificarsi Poi questo Ti faccio un parallelo Strava di spettacolo Però una cosa Che per esempio Sì io lo penso Di Belè Rodriguez Perché Belè Rodriguez Non ha Intrinsecamente Quell'autogiudizio Sono d'accordo Che invece Noi Cioè Se tu ci fai caso Uno tenta sempre Di associare Una didascalia simpatica A qualcosa Che possa smorzare Perché è come se In Italia Le donne Non si sentissero A loro agio A dire Io piaccio Perché mi piaccio Voglio fare sesso Sono libera Ed è una cosa Secondo me Che noi abbiamo In maniera Introiettato Proprio a livello culturale Sì come se ci si Dovesse sempre Giustificare O vergognare Cioè mettere la frase La frase simpatica Per giustificarsi Oppure aspettarsi Una valanga Di odio E di Cioè Il problema Che contro di voi Figlie mie C'avete due cose Uno Che è quella Che abbiamo appena detto Cioè Il patriarcato Quindi la borghesia La divisione dei ruoli Io vado a lavorare Io sono importante Perché ho il potere Faccio i soldi E quindi ti mantengo Tiene un continente E stai a casa E quando lo fai E osi alzare la testa Te la buttano Per terra Perché non è il tuo ruolo Perché non è il tuo No Perché la società Nell'ottocento È stata costruita così Per una serie di motivi Sono passati 200 anni Però non è che Siamo proprio cambiate Tutte queste altre cose E poi Qui ce l'avete qua di dietro C'è una roba Che si chiama Cattolicesimo Eh sì Mi dispiace tantissimo Dirlo Però La condizione femminile All'interno Di questa dottrina religiosa Non è che sia proprio Perché è intrinseco Anche nella cultura Ormai è veramente È veramente impregnata È storia Sì è diverso Dal cristianesimo È proprio il cattolicesimo Che C'è proprio questa concezione Che è quasi carnale Del senso di colpa Che ti paralizza Anche se tu A livello Razionale Riesci ad emanciparti C'è qualcosa Che comunque Ti frena Dici Io non posso Magliato E ti dico Che insomma Vabbè Esco dal ruolo De megalomane È chiaro che Da quando Io ho avuto Uno switch Di popolarità Molto forte E io A un certo punto Sono passata Da fare stand up In una maniera Molto tranquilla A sentirmi Ogni tanto Mi sono detta Ma io mi sento In colpa Perché dico Le parolacce Perché io parlo Di sesso Libera me C'ho avuto Dei momenti In cui ho detto Ma come è possibile Che io penso questo Perché era come Se qualcuno Si fosse alzato E avesse detto Bruciate quella strega Cioè Non è la cosa Del È proprio Il come ti Permetti tu Di alzarti E dire Io Faccio Sesso Io Dico Cazzo Io sono padrona Della mia vita È proprio una roba In cui io ti sfondo Capito Perché tu devi essere messa Al tuo posto Sono strutture culturali Che sono potentissime Noi non ci rendiamo conto Cioè che entrano proprio Nel nostro Apparato cognitivo Tu razionalmente Puoi fare Quello che vuoi Il grande culturale Che hai fin da bambino E tutte le idee Che ti hanno comunicato Non per forza inculcato Che però La generazione In cui sei cresciuto È quella E quindi i valori Erano quelli E te li hanno riportati Come se fossero dei dogmi È uscire un dogma È molto difficile Infatti ci sono personaggi Tu hai citato Belen Però Beyoncé È un'altra Che combatte questa battaglia Secondo me In una maniera Molto Molto bella Proprio attraverso La sua fisicità Cioè nello stesso modo Io sono così Sono una donna grande Sono una donna afroamericana Con un colore di pelle Diverso dal vostro Sono super potente E sono più potente Io Di mio marito È una roba Questo qui è un Grande messaggio Di empowerment Femminile Ammazza E che è vero Sì sì Tra l'altro Perché poi Lui gli ha fatto le corna Ma lei gli ha fatto Tanto Ragazzi Ci ha fatto pure un disco Anche io ho fatto Una canzone Su un tradimento Si chiama Mignottone pazzo Bene Michela Grazie per aver distrutto Tutto questo discorso Abbiamo fatto sul femminismo Però una grandissima canzone Posso dirlo Da fan E anche su Spotify Se volete sentirla Ma comunque Queste rappresentazioni Di donne Poi posso dire Un'altra cosa Fuori dagli schemi Fuori dai denti Forse a Muca Gli è venuto in mente Di rappresentare La donna così Sia perché Era appunto Cieco Cieco Slovacco E poi Vistuto a Parigi Quindi in quella capitale Dove Era tutto nuovo Si poteva fare tutto Si respirava quest'aria E si poteva rappresentare Una donna Che non era Solo una La chiamavano Le femme nouvelle Però non era Solo una femmina nuova Era un po' come Le femme forte Dell'antichità Era sia femmina forte Che femmina fatale E poteva essere rappresentata così Perché rappresentava un nuovo mondo Un nuovo momento della storia Che cosa che ci tengo particolarmente a dire Era tutto molto bello Nella Francia Di fino a 800 Inizio a 900 Però Nei colonie C'era una situazione devastante E ovviamente Tutto questo discorso Vale solo per la borghesia Perché la povera gente Che lavorava Con le rivoluzioni industriali Eccetera eccetera Insomma Tutto si costruiva su quello Hai figlio Comunque vorrei diritti Che in quel periodo Lì è nata anche la moda Così Tra il lusco e il brusco Eh sì E anche la moda seriale Cioè quel poco Della serenità Allora La moda seriale È una roba Che viene un po' dopo Però in quel momento lì L'idea che abbiamo noi di moda Cioè lo stilista Che fa le collezioni Che le presenta Prima non esisteva Cioè prima Tu andavi dal sarto Gli dicevi No guarda Io voglio questo Uno metti su giù E il sarto lo faceva Poi è arrivato Paul Poiré E ha detto No figlia mia Ti vesti così Perché io sono Un designer È stato lui il primo A usare questa parola Quando viene prima il modello Eh perché lui ha detto Io sono un autore Quindi tu non puoi dire niente Cioè puoi non comprare Dopo di lui Quali sono i più grandi Secondo te? Eh qui c'è tutto Un discorso pazzesco Perché secondo me Le più grandi Sono tutte donne E sono Ed è una storia Che anche la storia Dal modello è una storia Quasi sempre raccontata Al maschile Allora Coco Chanel Sì Un momento di raccoglimento Elsa Schiaparelli Che è una che Tra l'altro romana Sì sì Molto meno conosciuta Però gigantesca Una che ha lavorato Quei surrealisti Che ha fatto delle cose Incredibili Madeleine Vionnet Che ha inventato Una cosina Che si chiama Sbieco Che tu ti metti E ti fa le cosce Più Il taglio Eh sì Ti sta da Dio Che venga fatta santa Che venga fatta santissimo Ma sai che lei è stata La prima Al mondo A sindacalizzare La sua azienda Negli anni venti Nella moda E a costruire Un asilo E a dare il maternity leave Negli anni venti A quelle che lavoravano per lei Ed erano Duemila persone Duemila donne Di una visione Straordinaria Cioè Incredibile Pazzesca Incredibile E di tutte queste donne Nella moda del novecento Ce ne sono tantissime Madame Gress Jeanne Lamven Che hanno tutte Dato un contributo Molto forte Però Poi Gli uomini Alla fine Eh sì Perché su di loro Si sono costruite Delle mitologie Molto più potenti Forse relegate un po' Ancora la figura Della sarta Azzardo Cioè Anche se erano Grandi stilisti E designer Però in un mondo Appunto Tanto maschilista Come quello della moda C'è una question È un mondo Tanto maschilista Quello della moda Te lo chiedo Da profana Ok Che aveva risposto È bastato uno sguardo Signori ascoltatori No ma La cosa strana Di questa storia Della storia Della moda È che C'è sempre C'è questa cosa Che gli stilisti Sono uomini Tutti quelli importanti Sono tutti uomini Tra l'altro Quasi tutti gay Anzi tutti Eccetera Tutta questa narrazione Poi c'è una Contronarrazione Super femminile Che è molto più interessante Perché dietro Dior E dietro San Laurent Ci sono delle operazioni commerciali Mostruose Dior è un brand Che è stato costruito Da zero Da un imprenditore Che si chiama Bussac Che è andato da Dior E gli ha detto Guarda amore Sai cosa c'è Domani facciamo un brand Che diventa famoso Un'operazione di marketing Madeleine Vionnet Era una Che lavorava Con delle bamboline Così ci sono Delle foto pazzesche Lei si faceva i vestiti Sulle bamboline In miniatura E poi Li provava Le donne Quindi era Una vera artista Però Il Dior è un brand Che oggi esiste ancora Vionnet è un brand Che oggi non esiste più E quindi Per il discorso Che facciamo prima Del mercato La mitologia Su Christian Dior È molto più forte Che quella su Vionnet Però da un punto Di vista artistico Il peso è molto diverso Bellissimo Questa Storia delle bambole Proprio come l'artista Che fa il bozzetto Ho pensato subito Agli scultori Che fanno il bozzetto Piccolo E poi realizzano Jean-Lan Venn Faceva i vestiti Per sua figlia Tutta la sua storia E vestire sua figlia Tra l'altro È una delle prime donne Che all'inizio del novecento Divorzia E mette su Tutta un ambaradam Da sola A Parigi Con la figlia Capito come Certo Sicuramente storie Di donne Che ci hanno avuto Una grande Lungimiranza E una grandissima Forse volontà Senti Perché sicuro Non è facile A parte che mi sono Innamorata di te Io sono Passa È successo signore È successo di nuovo È successo di nuovo Michela si è innamorata Io sono Innamorata Purtroppo Non penso Di essere ricambiata Ma io sono Innamorata di te Ma perché io sono già fidanzato E tra l'altro Mi vorrei anche sposare Anzi Vabbè basta però Voglio dire No è che non mi sposa Sposalo Se no lo faccio io Ecco Io ti volevo chiedere Una cosa Che non c'entra nulla Allora Noi lavoriamo Con un brand Che tratta Te lo dico in maniera Le cosiddette Tra virgolette Insomma taglie Che è una cosa Che io odio dire Curvi No Però diciamo che Vabbè io poi ho fatto tutto Un monologo Su questa cosa Un po' della ghettizzazione Però è un brand Che è conosciuto per questo In realtà Persona Poi Maria Rinaldi Veste tutti E secondo me C'è una grande omertà Riguardo al concetto Della donna Considerata sovrappeso Che si possa piacere Perché in Italia È molto complicato Tu che ne pensi Cosa Dove stiamo andando Secondo te Qua in Italia Allora la moda Secondo me ha fatto Tantissimo Negli ultimi anni Anche molto sollecitata Dalla musica E molto sollecitata Dalla musica Proprio afroamericana Dal rap Da questo modo Di lavorare sul corpo Ha accettato Questi nuovi standard Li ha rappresentati In una maniera Molto forte Si sono cominciate A vedere fisicità Di ogni tipo Sulle passerelle Penso a Precious Lee Penso anche a Ashley Graham Assolutamente Ma anche Rappresentati In marchi insospettabili Che avevano dei riferimenti Completamente diversi E questo è stato Molto 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 Buono E questa cosa La vedi Nelle ragazze Molto Molto giovani Perché avere Dei riferimenti Accettati socialmente Vuol dire che Anche tu Fai meno fatica A accettarti socialmente Vedi una cosa Vedi una cosa rappresentata È un modello Certo Vuol dire che Esiste anche Quella possibilità Adesso Per una serie Di motivi C'è una specie Di Siamo un po' In controriforma Quindi qua Bisogna rimettersi A combattere Perché Secondo me Quello che è successo È che questa cosa È stata troppo Violenta Troppo forte E si sono scatenate Delle forze opposte Che c'entrano Sia col mercato Sia anche proprio Con i sistemi Culturali Forti Che hanno detto Scusa Cosa sta succedendo Eh sì Torniamo un attimo Dove eravamo prima E ricominciamo da capo Però è molto Questa cosa Me la stai facendo notare Perché non è esplicita È molto subdola Questa cosa che dici Cioè se tu me lo dici Me lo fai notare Dico Ah è vero Però è una cosa Che ci devi veramente Fare attenzione Perché io Sentivo che c'era qualcosa Ma non Non l'avevo focalizzata No ma ci sono Delle analisi di dati Per cui Non so Un anno fa Sulle passerelle C'era il 55% 60% Di modelle curvi E adesso c'è lo 0,2% Improvvisamente Quindi siamo tornati A livelli di prima Quindi qualcosa è cambiato È cambiato Perché Ci sono dei problemi Di mercato Di crisi eccetera Ma è anche cambiato Perché culturalmente Certe cose È stato tutto Veramente esplosivo Sì E quindi La società Bisogna evidentemente Di tempo Però questo non vuol dire Che adesso bisogna rallentare Bisogna mettere una accetta E poi fare tabulare Se ricominciare Esatto Potrebbe partire da questo E poi costruire in maniera Più armonica Tutto il concetto Esatto Cioè bisogna continuare A spingere Nella stessa direzione Senza tornare indietro Per questo persona Marina Rinaldi C'è E quindi dopo questa grande Sponsorizzazione del brand Su questo signore Io mi permetto di dire Ultime due parole Per poi salutarci Perché il tempo Il tempo è tiranno Se qualcuno vuole vedere L'opera di Muca È a Praga Dove c'è anche Un ottimo prosciutto Cotto Sì È il prosciutto di Praga È buonissimo Te lo tagliano in piazza Col coltello Va bene Michela Grazie per aver dato Queste tips Su un viaggio a Praga Non soltanto Al Muca Museum Ma a Praga Ma trattandosi Di una riproduzione Di una litografia Essendo un poster pubblicitario Si può trovare In tantissime altre collezioni E detto ciò Questa è stata La nostra ultima puntata Con il dolore nel cuore Ringraziando tantissimo Andrea Batilla Grazie a voi Ma dove va Io mi ti porto a casa Io mi porto via Andrea Sono innamorata pazza Noi ringraziamo tutti voi Per esserci stati di nuovo Per una nuova Straordinaria stagione di Gioconde Che ci ha dato tanta gioia Ringraziamo la regia Lo studio I fonici Il trucco La produzione Claudia Gabriele Giacomo Spaconi Le ragazze del trucco Valeria Adoro quando mi togli la parola Poi Sì Chiara È giusto Poi ringraziamo Il brand Persona Bambina Rinaldi Nelle persone di Fabio Dondi Giacomo No perché Guido Sono emozionata Martina Mi sono emozionata È giusto Poi Valentina Rossimori Antonio Losito La produzione Eliana Flaminia E poi Ragazzi Possiamo dirlo Sembra una nonna Che fa l'elenco Di tutti i nipoti Allora C'è stava pure In the sky Katia Dellone In rappresentanza Della Baldassari Agenzia Va bene Fatto questo elenco Di tutti i nipotini Nella festa Nonna De cent'anni Grazie a tutti Un grande Ringraziamento Ci vediamo Ci vedremo Chissà Ci rivedremo Grazie a tutti Per essere stati Cono in questa Seconda stagione Di Gioconde Grazie Arrivederci E buona fortuna Grazie Ti sei pentito Di essere venuto No assolutamente È finita? Sì Sì è finita Mi ha fatto Di discorsi serissimi Eh sì Ma sono venuti così Mazza Abbiamo attaccato Dei baby pony Eh sì Ma era necessario Sì sì Bene Dovremmo tagliare Metà della puntata Esatto